Buongiorno a tutti e benvenuti da Borsali Strumenti Musicali. Sono Stefano e oggi affronteremo un tema molto sentito dai musicisti. Quali sono le condizioni climatiche ottimali per preservare i nostri preziosi strumenti in legno? Quindi parleremo di temperatura, di umidità relativa, di quanto il legno assorbe l'umidità che c'è nell'aria e tutte queste tematiche. Soprattutto affronteremo il tema di come gli strumenti ci comunicano che non stanno tanto bene, che sono troppo al secco o in una situazione troppo umida. Cercheremo di capire insieme quali sono le precauzioni da prendere, anche in previsione magari di un viaggio, e cercheremo di capire contemporaneamente anche le cose che sono assolutamente da evitare nel caso ci dovessimo trovare di fronte ad uno strumento che ha subito uno sbalzo troppo repentino, soprattutto di umidità. Bene, allora prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di condividere i nostri video, se alla fine del video vi è piaciuto a me e tu mi piace, iniziamo! Sono due le cose che dobbiamo tenere sempre in considerazione. La temperatura e l'umidità relativa. L'umidità relativa sostanzialmente è la quantità di vapore acqueo che c'è nell'aria. Quindi possiamo chiederci quali sono le condizioni ottimali per i nostri strumenti in legno? Beh, le condizioni ottimali, ad essere precisi, ad essere anche un po' fortunati, sono quelli che ci indicano le aziende. Per farvi un esempio, Gibson indica una temperatura di 21 gradi, una percentuale di umidità relativa del 45%, mentre Taylor, altro marchio storico di chitarre acustiche indica una temperatura di 24 gradi e un'umidità relativa del 47%. Martin, dal canto suo, propone 22 o 25 gradi e un'umidità relativa che va dal 45 al 55%. Sono valori molto vicini, ma vediamo che nel caso della temperatura, che è il valore diciamo meno sostanziale, meno importante, diciamo che una temperatura che va dai 21 ai 22 gradi, 23, 24, è ottimale. Se avete 19 gradi in casa la vostra chitarra non soffrirà. Per quanto riguarda l'umidità, che è il valore più sensibile per il legno, il valore che dobbiamo più di tutti tenere in considerazione, invece ci accorgiamo che il range più largo è 40%, 60%. Un range, quello che indica Martin, è 45, 55, ma che insomma l'umidità relativa nell'area deve essere attorno al 50%. Vediamo ora come influisce l'umidità, perché è importante e che cosa succede ai nostri strumenti se sono esposti a una esagerata umidità o a troppo poca umidità. Ma perché l'umidità relativa è così importante? Beh, perché il legno è un materiale igroscopico, si dice, cioè assimila come se fosse una spugna il vapore acqueo che è disperso nell'aria oppure lo rilascia nel caso non ce ne sia sufficienza. E quindi il nostro strumento, che è fatto di legno, cambia la sua geometria in funzione dell'umidità relativa che abbiamo nelle prossimità intorno a lui. Considerate che l'igroscopicità del legno, quindi la sua capacità di assorbire o di lasciare umidità acqua sostanzialmente, varia in funzione dei tipi di legno. Non tutti i legni hanno la stessa igroscopicità. Per darvi un'idea, le conifere, quindi la bete, ha un alto tasso di igroscopicità, mentre per esempio il moggano ha un tasso di igroscopicità molto più basso, quindi reagisce un pochino di meno alle variazioni di umidità presenti. L'umidità relativa è condizionata dalla pressione atmosferica e dalla temperatura in generale, ma possiamo anche identificare quali sono i segnali che ci danno gli strumenti per dirci che non stanno bene nell'ambiente in cui sono. Come si comportano gli strumenti se sono sottoposti a un ambiente eccessivamente umido o eccessivamente secco. Come introduzione vi dico subito che è meglio un pochino più umido, meglio andare un po' oltre quel 55% di media che abbiamo detto prima, che non un ambiente troppo secco. Il secco fa male, fa molto male agli strumenti, l'umido è comunque insomma difficile che ci siano situazioni drammatiche, anche se anche in quel caso bisogna stare molto attenti. Allora vediamo la prima situazione climatica critica per gli strumenti in legno, la troppo umidità, l'eccessivo umidità. Nel caso che l'ambiente sia eccessivamente umido, prendiamo come esempio una chitarra, in legno, questa è una cosa che succede a tutti gli strumenti in legno, il legno si dilata, ok? Per forza di cose, abbiamo detto che è agroscopico, acquisisce l'acqua in eccesso e si dilata. Quello che può succedere ad una chitarra può succedere che vedrete subito che la tavola armonica, che è la parte davanti dello strumento, si alza, si gonfia, fa la pancia, ok? Di conseguenza il ponte, che è questa parte qua, sale, ok? E la parte finale della tastiera, quella che è ancorata sulla tavola armonica, proprio per il fatto che la tavola si gonfia, sale anche lei, l'azione delle corde cresce, quindi le corde diventano molto alte sulla tastiera e lo strumento diventa stonato, difficilissimo da suonare e soprattutto genera buzz e rumori, ok? Quelle vibrazioni, ok? Soprattutto dal sesto, settimo tasto in su, proprio perché le corde vanno a sbattere nella parte alta della tastiera, quindi nella parte che si è deformata. Nel caso, nei casi più gravi, le parti degli strumenti sottoposti ad un tasso di umidità eccessivamente alto si scollano. Nel caso di una chitarra sono altri due i segnali di una eccessiva umidità, il fatto che lo strumento comincia a suonare più ovattato, con meno volume e la, diciamo, più veloce ossidazione dei tasti e delle corde. L'altra condizione climatica disastrosa per gli strumenti musicali in legno è il troppo secco, cioè la percentuale di umidità relativa nell'aria è eccessivamente bassa. Se cominciamo a scendere sotto quel 45% che abbiamo visto come limite minimo di umidità relativa, gli strumenti cominciano seriamente a patire ed è proprio questa la condizione peggiore. Nel caso di umidità relativa troppo bassa, a differenza di umidità relativa troppo alta, il legno si contrae, ok? Si rimpicciolisce, potremmo immaginarci così la cosa, ok? La tavola armonica di una chitarra si ritira, quindi si abbassa, va verso il basso, la tastiera anche si abbassa, di conseguenza l'azione, le corde vanno a schiacciarsi sulla tastiera e quindi tutta la chitarra affrigge, i tasti, se sentiti sul bordo, vengono rifiutati dalla tastiera, spuntano fuori e pungono e in generale la cosa più drammatica è che lo strumento ad umidità relative eccessivamente basse possa crepare e rompersi perché non regge la situazione. Vi faccio vedere anche un esempio portato con me, per non parlare solo di chitarra o di bassi, ma per parlare anche di altri strumenti, ho qui con me la campana di un clarinetto, cioè la parte terminale in fondo di un clarinetto, in questo caso ho una ghiera, questa ghiera dovrebbe essere fissa, ok? Che sul lebano di cui è prodotto questo strumento, in realtà in questo caso questa campana è stata esposta a una situazione di umidità relativa molto bassa, il legno si è ristretto e come potete vedere la ghiera gira, ok? Quindi basterà sottoporre la campana ad un'umidità più alta per fare in modo che si riblochi perché il legno si dilata e lei si ferma. Quindi che cosa dobbiamo fare per cercare di evitare che i nostri strumenti in legno siano sottoposti o a condizioni climatiche negative, ok? Beh, sicuramente per esempio nel caso di una chitarra o di un basso evitare di intervenire sul truss, sul truss rod, oppure sulla selletta con interventi di liuteria che diciamo cercano di abbassare l'azione. Se uno strumento si è gonfiato, ok? Si è dilatato perché c'è troppo umido, è inutile cercare di raddrizzare il manico e abbassare la selletta per ottenere un'azione più comoda. Quello che dobbiamo fare è portarlo da una persona esperta che ci indichi il fatto che deve semplicemente essere posizionato per uno o due giorni, poi lo strumento si assesta in un ambiente che abbia condizioni climatiche più favorevoli. Se a quel punto neanche così abbiamo risolto il problema dell'azione, allora poi valuteremo se intervenire sul truss e sulla selletta. Beh, e poi l'altra cosa assolutamente da evitare, questo in generale con tutti gli strumenti che hanno in legno o che hanno delle componenti in legno, è quello di assolutamente evitare gli sbalzi di temperatura troppo repentini e gli sbalzi di umidità troppo repentini. Cioè, se noi prendiamo la nostra strumento, lo portiamo, lo lasciamo in macchina, per esempio, in una caldissima giornata di agosto per dieci ore, è drammatico. O se decidiamo di tenere, conservare il nostro strumento in un luogo molto umido, oppure se sbadatamente appoggiamo il nostro strumento vicino a un calorifero sotto lo split di un condizionatore che secca moltissimo l'aria. Ecco, ovviamente tutto quello che abbiamo detto rispetto all'umidità e alla temperatura non vale soltanto per le chitarre, ma vale anche per tutti gli altri strumenti in legno. Un clarinetto, un oboe, un qualsiasi altro fagotto. Anche loro, ovviamente, essendo di legno, possono variare la loro geometria se l'umidità relativa è nell'ambiente troppo alto, troppo bassa, oppure possono seccarsi eccessivamente e produrre delle crepe. Un legno come questo oppure un violino. Anche in questo caso strumenti delicatissimi, tutti gli archi, violini, violoncelli, contrabbassi e viole, sono molto sensibili agli cambi di umidità. Abbiamo comunque degli strumenti che ci aiutano a capire qual è la temperatura, l'umidità relativa nell'ambiente e ci aiutano a precauzionarci per salvaguardare i nostri preziosi strumenti in legno. Il più importante, il primo di tutti, è un termometro e il grometro, in questo caso digitale. Qui vedete la temperatura che in questo momento, qui in questo ambiente qui è di 22 gradi e mezzo e l'umidità relativa del 55%. Il grometro è uno strumento particolarmente sensibile, ce ne sono di diversi tipi, questo digitale è molto comodo, però esistono gli grometri a capello che sono molto più precisi, vanno tarati, oppure gli grometri a bulbo umido. Eventualmente se avete contatti con gli utai potete chiedere un consiglio per acquistarne uno che sia particolarmente affidabile. Un altro strumento che utilizziamo sempre qui in negozio per mantenere costante la temperatura è quella cosina che vedete lì dietro di me, che è un umidificatore che produce vapore e mantiene costante la umidità nell'ambiente in cui sono conservate le chitarre e tanti altri strumenti intorno al 50%. Ma abbiamo anche altri piccoli trucchetti che possiamo utilizzare da altri piccoli oggetti, come per esempio un umidificatore per gli strumenti oppure i sali essiccanti. Questi diventano cose molto utili soprattutto quando si viaggia, si fa fare uno sbalzo molto repentino ai nostri strumenti della temperatura e dell'umidità relativa. Se sappiamo che dovremo andare in un luogo particolarmente umido rispetto al nostro punto di partenza, metteremo qualche bustina di sali essiccanti nella nostra custodia per fare in modo che l'umidità eccessiva non danneggi lo strumento. Se sappiamo che dobbiamo andare in un posto al contrario molto secco rispetto all'ambiente dal quale proveniamo, metteremo un umidificatore all'interno della custodia per fare in maniera che nella custodia si crei un microclima che stabilizzi lo strumento senza rischiare eccessivamente. Bene, per concludere direi che una cosa fondamentale che fino ad ora non vi ho detto è che spesso le persone mi dicono che più lo strumento è economico più sarà delicato. No, non è così, è vero il contrario, più gli strumenti sono diciamo costosi e quindi sofisticati, particolari, legni pregiati, vernici molto sottili, più sono delicati e più sono sensibili agli sbalzi di temperatura e alla quantità di umidità relativa che c'è nell'aria. Quindi stare molto molto attenti soprattutto se si hanno degli strumenti di valore. Ecco, io direi che ho concluso, vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto. Come vi dicevo all'inizio vi invito a mettere un mi piace al video e ad iscrivervi al nostro canale YouTube. Alla prossima!